con i suoi poteri elimina l'Aiella e dona la fortuna. Hai mezzi per sconfiggerla. Chiama con fiducia al numero 335 65 92 908. Potrai fissare un appuntamento più vicino alla tua città con Letterius, lo specialista di alta magia. Diversi diplomi e attestati sono stati rilasciati al maestro Letterius per l'impegno e la professionalità dimostrata nella propria missione nel campo dell'astrologia, delle scienze occulte, del paranormale e delle discipline parallele. Risolve problemi difficili, anche impossibili. L'astrologia, la numerologia, la chiromanzia danno un senso preciso al tempo e ti aiutano a capire gli eventi e la natura umana. Hai voglia di dare chiarimento alle tue preoccupazioni? In amore, famiglia, lavoro, puoi parlarne con fiducia con il mago Letterius e fissare un appuntamento nella massima riservatezza al numero 335 65 92 908.